L'acqua rappresenta la principale fonte di salute e lunga giovinezza della pelle che ne contiene il 67%. Idratare significa proteggere questo patrimonio idrico. La struttura cutanea funziona come una barriera indispensabile a mantenere l'idratazione della pelle entro valori fisiologici, ma il trascorrere del tempo, climi troppo rigidi o ambienti secchi come gli uffici, troppa esposizione a sole e vento, fumo, dieterrate e persino poco riposo possono pregiudicare le riserve idriche della cute che diventa secca e ruvida con evidente riduzione dell'elasticità e del tono cutaneo, provocando screpolature, arrossamenti, prurito ed altri fenomeni irritativi. Inoltre, la pelle disidratata è una pelle soggetta ad un veloce e precoce invecchiamento. La pelle ha quindi estremamente bisogno di apportare costantemente idratazione attraverso prodotti che riducano le carenze idriche e che compensino gli squilibri idrolipidici. Per un'idratazione ottimale, Anora ha elaborato IdraExtrem, una linea di prodotti dalla straordinaria efficacia, grazie alla scoperta di un nuovo biosaccaride che cattura e integra le molecole d'acqua della pelle, formando un film idratato per una protezione continua contro la perdita idrica. Acido bioialuronico, glicoproteine e oli pregiati dalle proprietà nutrienti ed emollienti completano le formule per un'idratazione su misura, con un duplice risultato. Immediatamente riparano l'aridità superficiale con effetto di pelle morbida e setosa. Nel tempo proteggono l'idratazione degli strati più profondi per rallentare l'invecchiamento cutaneo. I prodotti IdraExtrem favoriscono infatti il rinnovamento delle autodifese cutanee ed il mantenimento delle condizioni ideali per gli scambi idrici, limitando il fenomeno naturale della perdita d'acqua transepidermica. Usa una texture in crema se la tua pelle è molto secca o in clime rigidi. Se invece hai una pelle grassa, preferisci la nostra crema gel acqua balance o un'emulsione. IdraExtrem offre una gamma di texture differenti per rispondere alle esigenze dei differenti tipi di pelle. Per unire i vantaggi dello skin care a quelli del trucco, scegli BB Cream. È un trattamento multi benefit che oltre a idratare illumina, leviga, uniforma, protegge e colora.